Dopo il PDL la Lega Nord ha chiedere con forza l'istituzione di una commissione di inchiesta sugli oneri. E torniamo invece ora ad occuparci dello scandalo oneri perché dopo il PDL è ora la Lega Nord ad attaccare l'amministrazione Cimatti. Dopo il PDL è la Lega Nord ad attaccare l'amministrazione bassanese sullo scandalo oneri. Le opposizioni vogliono chiarezza e per questo si appellano direttamente al primo cittadino. Cimatti deve fare questa commissione di indagine, anche perché come ripete sempre Zaia, male non fare, paura non avere. Quindi credo sia opportuno che venga fatta questa indagine, si mostrino le carte, si cerchi di porre rimedio, si individui alimentare responsabili. Ma soprattutto la Lega chiede chiarimenti sui 2 milioni e mezzo di euro ancora assenti dalle casse comunali. La cosa più grave è che i soldi sono ancora in tasca di qualcuno. Un cittadino che ha pagato l'onere di organizzazione e scopre che altri non l'hanno fatto ha il diritto di essere arrabbiato e soprattutto ha il diritto di sapere il perché. Serve chiarezza insomma e trasparenza e solo ogni indagine potrà mettere la parola a fine sulla questione. La verità è una sola. Bisogna vedere le carte che evidentemente non vogliono essere mostrate ai consiglieri. Bisogna spiegare cosa è successo. Finché non vedremo queste carte il dubbio che sia successo qualcosa di poco chiaro e che il sindaco voglia nascondere ai cittadini qualcosa di poco chiaro ce l'abbiamo.